Allora, lo scopo è, dopo essere rientrato da tre ore di trail, bagnato e puzzolente, farsi una doccia. Ovviamente mamma Amazon aiuta in questo e io non mi sono certo tirato indietro. Pompettino a pedale, bello pieno. Andiamo un po'. Funziona, sicuramente fredda perché cazzo è fredda, bellissima, mi piace.